Oggi presenteremo un'anteprima nazionale su un nuovo trattamento con un palloncino a energia vibratoria che oscilla all'interno della cavità nasale in maniera minimamente invasiva, un trattamento che si segue in ambulatorio, per il trattamento delle riniti. Queste riniti che affliggono il 70% della popolazione negli ambienti industrializzati rappresentano i raffreddamenti che non sono solo dovuti alle allergie, i nasi chiusi, le rinocinusidi che fino ad oggi erano curati con soluzioni tante volte antiquate o con carichi farmacologici eccessivi, pensiamo all'abuso degli spray nasali da banco. Oggi con una semplice introduzione di un palloncino che vibra, una sorta di massaggio all'interno della nostra fossa nasale, è possibile resettare la reattività del naso con una rapida guarigione del paziente ed un recupero di un pieno flusso respiratorio con una riduzione del numero di raffreddori e di riniti. Oggi presentiamo in anteprima i risultati dell'applicazione di un palloncino messo a punto al Karolinska Institute di Stoccolma con un'analisi dei risultati prossimi a una piena diffusione della tecnica sulla popolazione generale.